Benvenuti nel secondo episodio di In Risposta a Scombo, il podcast dedicato a Magic the Gathering più amato dagli italiani, anche perché siamo per ora gli unici. Buongiorno Akira, come stai? Ciao Zio Garbe, sì, come scavolini entriamo nelle vostre case per non uscirne più. Non abbiamo però purtroppo una, diciamo, non mi viene solo la parola influencer, Zio, sono una deformazione professionale, dicevo una, come si dice, una testimonial appunto, come Ether Parisi era quella. Beh ma noi due, vuoi mettere? Che testimonial siamo? Ma non scherziamo. Però nessuno di noi due è biondo, cioè tu forse vuoi. Sì, quando ero giovane avevo i capelli, ero biondo, mi è rimasta la barba bionda. Uno di noi due alle tette, cioè, vedo da vicino, però effettivamente potresti, no, non ce l'abbiamo. No, beh, stiamo entrando in un tema spigolosissimo, spigolosissimo come l'argomento di oggi. Comunque, sicuramente il podcast più amato dagli italiani, questo non c'è dubbio. In assoluto addirittura. In assoluto, c'è ragione, di Magic, per ora di Magic, ma siamo pronti a conquistare il mondo. Assolutamente, ospiti internazionali col mio incredibile inglese. Comunque, il tema di oggi è spigoloso, spigolosissimo, divide molto la community, ed è la domanda, ma Wizard sta pubblicando troppi prodotti? Cos'è successo in questi ultimi anni? Cioè, adesso, a Chirone, ma prestato un grafico che non vi faccio vedere, perché siamo format audio, dove nel 2018 sono stati pubblicati 18 prodotti, di cui i quattro set classici di standard, e rispetto al 2012 sono il doppio. Poi, nel 2017, 15. Nel 2016, 12. Ora, è un argomento che sviscereremo nel corso della puntata. Io faccio una premessa, cioè che io tendenzialmente sono d'accordo, ci sono delle problematiche di cui parleremo, ma l'idea di avere tanti prodotti significa ristampe, perché molte di questi prodotti sono ristampe, e significa abbassare prezzi di staple, e significa anche avvicinare diverse tipologie di player al mondo di Magic Cartaceo. Sì, che poi non hai parlato degli anni, diciamo, quando Magic è nato, perché nel 1993 nasce, ci sono quattro prodotti. È vero, 96-2. Cioè, nel 96 deve essere successo qualcosa di particolare, una crisi, solo due prodotti in tutto l'anno, poi diciamo che viene rispettato il trend di quattro prodotti sempre dal 2003 in poi, perché nel 2002 erano solo tre. Strano, perché non me lo ricordo. 4, 4, 5, 4, 5. Nel 2008, 7. Nel 2009, 9. Nel 2010, 11. 2011, 10. E poi, appunto, a salire. A salire. Il 18 del 2018, che un po', tra l'altro, mi fa pensare, perché il 2018-18... Un segno. Esatto. Oh mio Dio. Tra l'altro, è interessante come questo argomento, appunto, ha tantissimi, come si dice, ganci per discuterne, perché anche prima tu dicevi, divide la comunità, divide un po' anche i due host di questo podcast, diciamo la verità. Nel senso che tu, comunque, hai detto che sei tendenzialmente favorevole, nel senso che, comunque, sei contento. Io ti avevo detto, proprio prima di iniziare a registrare, che non me ne ero neanche accorto. Cioè, nel senso... Brutale. Sì. Io, partiamo, insomma, dalle basi. Perché sta succedendo questo? Perché sta succedendo questo, mi sembra evidente. Magic è un gioco che sta crescendo negli anni tantissimo. Mi pare di ricordare che, per quanto riguarda il fatturato da Innistrad, non da Retorno to Innistrad, da Innistrad, ha sempre fatturato anno dopo anno di più dell'anno precedente, quindi vende sempre più carte. Crea sempre più nuovi giocatori. Questi giocatori non abbandonano il gioco, ma crescono. Crescendo fanno, chiaramente, delle scelte, e queste scelte, solitamente, sono relativi al formato a giocare. Quindi, io, a livello cartaceo, fino all'altro ieri, che sarebbe novembre, ottobre, ero un giocatore che giocava solo ed esclusivamente modern. Io non gioco standard cartaceo. Neanche Commander non l'hai mai provato? No, in verità, Commander lo giocavo moltissimo. Multiplayer o competitive? Multiplayer, non competitive. Avevo un Commander tutto pimpato. Grande. Ho venduto recentemente, che quando ne parlo, mi viene proprio il magone. Ho venduto una Survival of the Fittest promo Judger. Che è bella, bellissima. Esatto. Ovviamente dei miei colori, cioè Bunt. Grande, compagno di Bunt. Non la sapevo questa cosa. Ma questo, cioè, ci ha comune. Eravamo scritti nelle stelle. Ma no, nei colori di Magic. Esatto, i migliori colori di Magic, chiaramente il colore del mio Commander. Quindi sì, assolutamente giocavo Commander, però mentre seguivo competitivamente il Modern e quindi ogni volta che uscìva un'espansione, un set, stavo attento a quali carte entra in Modern. Queste, quindi mi devo comprare queste carte. Ed erano sempre e solitamente poche, tant'è che in fondo seguivo solo i set speciali. Cioè Modern Master, per capire quali ristampe c'erano, cosa vendermi, cosa non vendermi, eccetera. Ehm, appunto, questo secondo me trend di Wizard of the Ghost è perché ci sono tantissimi giocatori e loro possono permettersi di far uscire prodotti che comunque sia non floppano mai o se floppano... Più o meno. Invece io ho un dato su un flop. Cioè un dato sul flop di un prodotto che sono i Collector Booster. Nel senso che, adesso, il mio dato è preso da Reddit e Twitter. Molti negozi, i Collector Booster di Coria, neanche li hanno presi. Cioè neanche li hanno ordinati dal fornitore. Ma sono quelli che costano... Quelli che costano un botto con tutte i foil. Esatto. Ah, pensa. Io... Che io sinceramente non li ho comprati, li ho ricevuti quando ho acquistato il box in negozio. E su Eldraine mi è andata malissimo, su invece Teros, a parte che oggi un mio amico ha sbustato Uro Full Art, che è 90 euro di carte, però effettivamente è un prodotto davvero per le whales, cioè per chi ha tanti soldi da spendere, anche perché rischi tantissimo. Cioè non stiamo parlando di un pacchetto da 4 euro. No, ma a parte adesso i pacchetti sono da 5 euro, anche questo ti fa capire quanto io... Questa cosa la seguo poca perché l'ultima volta che sono andato a comprare un pacchetto ero con mio figlio e mi hanno detto 5 euro, e mi hanno detto quando è che ha cambiato il prezzo, effettivamente. Ha cambiato da Eldraine, no? Sì, Eldraine, però dipende dal negozio, perché mi pare sia su 4,50. Ah, ok, vabbè, al negozio mio. Comunque. Per quanto riguarda questi prodotti che hai appena citato, sono molto sincero, all'uscita non posso farti una statistica e tu anzi l'hai letto su Reddit, quindi sicuramente ecco quello che va preso come dato. Però io quando è uscito Teros Beyond Death, mi sono fiondato al negozio per fare i miei acquisti, quello che era, e ho visto gente proprio avvelenata a spendere questi 25 euro. Ok, ok. Avvelenata nel senso che poi quando aprivano, ah, ci sono andato sopra, guarda, c'ho la... E che è anche il bello di Magic, però questo tema della finanza ne parlerei dopo. Nel senso che... Cioè, era per dire che comunque non so che cosa vuol dire flop, cioè ok? Flop a livello di negozio, di negozio forse. Perché a me sembra di capire che invece vendono proprio veramente tanti prodotti. Penso che gli scaff... Altro esempio, sempre al mio negozio, i Dual Deck, non è Dual Deck, come si chiamano? Quelli... forse si chiamano Dual Deck. Ognuno c'è un planeswalker. Sì, quello base. Volevo comprarli di Teros, finiti. Di Eldraine, finiti. Dipende, perché anche ad esempio il mio negozio... Finiti, sono dovuto andare nero fino a Dominaria per comprare uno. Nel mio negozio anche, cioè è difficilissimo recuperare prodotto, perché... Arriva il prodotto, bam, è andato via. Arriva il prodotto, bam, è andato via. Quindi c'è un sacco di... Rigiro di materiale, di Magic. Comunque, prima ho tirato fuori Commander, perché uno dei prodotti più di successo sono i Commander Deck, che tra l'altro con i Coria fanno una discontinuo rispetto al pubblicare ai deck Commander d'estate, li pubblicano insieme all'uscita di Coria, che sono un prodotto secondo me ottimo, di base perché sono, come dire, li prendi e ci giochi, e ci giochi multiplayer con i tuoi amici, ovviamente non è competitive, però sono dei prodotti che un nuovo giocatore, che vuole iniziare Commander, prende e gioca. E tra l'altro io, quando mi ero preso la pausa da Magic con Airstone, ero tornato a giocare a Magic, acquistando un prodotto Commander, tornando con il Commander. Perché la cosa figa è che, se magari non hai una grande collezione per Commander, che è un formato smisurato a livello di deck building, ti compri il deck, hai il tuo Commander, vai e cresci, giochi, ti diverti. Quindi, Commander, secondo me, è una delle cose più potenti in Magic. Altro dato, non in Italia, non saprei dirti in Italia, ma è Commander il formato più giocato di Magic. È vero, è vero. Ma lo vedi, anche se non dobbiamo parlare di questo argomento, dai prezzi delle carte. Perché ci sono... Negli Stati Uniti Commander adesso si è veramente espanso a macchia d'olio e se tu vai... Mentre 6-7 anni fa, quando andavi a un GP, ovviamente sto parlando dell'Italia, perché non è che sono andato tanto solo io, non sono un GP all'estero, ho fatto finora, e vedevi che tra i tavoli c'era sicuramente tantissima gente che giocava, facevano i pro, facevano i money draft, stavano sempre in fissa a fare i money draft e molti side event draft di qua e di là, di Commander, cioè, proprio ne dovevi cercare uno con l'anternino, io ho il mio Commander, quest'anno l'ultimo Grand Prix che ho fatto appunto a Copenhagen, è wow, cioè, veramente vedi una crescita assurda, sono tutti che giocano a Commander, quindi è per questo che ti dico, secondo me questa inflazione di set di Magic che nel 2018 ha toccato 18 set, tra l'altro nel 2019 si è riabbassata con 14, li ho appena contati, tu parlavi così almeno abbiamo anche questo dato, non fa male a Magic, non fa male tra virgolette a nessuno, perché sono prodotti e comunque sono sempre dedicati a categorie di giocatori diverse, il punto è che il gioco è cresciuto così tanto nella storia degli ultimi 10 anni che tutte queste categorie che magari erano nicchie piccolissime o quasi insignificanti sono tutte diventate giganti e pensa tra l'altro al futuro, cioè c'è un core di giocatori legacy, ancora, molto molto attivo, nonostante il formato insomma abbia tre GP all'anno, non si sa che fine farà, se addirittura ne avranno zero, Star City Games ha detto che non lo farà più come gioco in formato competitivo e così via. Ho questa gente che continua a giocare, vanno al Four Seasons qua in Italia, vanno all'Ovino e il Torneo Legacy fa numeri pazzeschi, perché è una community comunque forte, che vuole continuare a giocare a quel gioco, perché in fondo Magic con tanti, ogni formato di Magic è un gioco diverso, no? Esatto, questa è la mia più grande battaglia, che combatto sempre, cioè Magic è la forza di Magic, che ognuno ci gioca come vuole, Kitchen Table, ma quanti giocatori ci sono di Kitchen Table? Quando dicono... E poi ci sono i formati non ufficiali, se ci pensi, perché non abbiamo parlato, no? Cioè, Old School, sai che esiste il formato Old School, il formato che si ferma, se non sbaglio, Arabia Knight, cioè, quindi le prime espansioni, contiene tutto, però fino a quel, sì, molto economico, no, però è figo, perché lì comunque, le combo quelle proprio sbroccate, che in vintage, chiaramente si possono fare nel vintage competitivo, che nessuno gioca, tranne Mengucci probabilmente, no, perché lui gioca veramente tutto, e gioca anche quello, non gioca Commander, e fondamentalmente non ci sono, perché se ti fermi a Arabia Knights, c'è certe cose, non vanno, e poi c'è Modern No Banned List, lo sapevi? Sì, 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 e non dimentichiamoci quei formati, che un po' li volevano far diventare ufficiali, e poi, come si chiamava quel formato? Il Mini Commander, se vuoi che ti ricordi? Mini, Mini Commander, può essere Mini Master? No, no, Mini Master è quello, tra l'altro, altro che, sentite la puntata che, adesso ne parliamo, Tiny Leaders, Tiny Leaders, giusto, giusto, Tiny Leaders, un grandissimo successo di formato, come Brawl, quello volevano farlo ufficiale, se ci pensi, beh, ma come stanno spingendo Brawl, nonostante la community, un po', si ha restato, invece, è proprio bello vedere che, proprio come abbiamo detto, ci sono formati che vengono dalla community, che sono fortissimi nelle community, ma che Wizard neanche supporta, su cui potrebbe fare prodotti, se ci pensi, perché, si decide di fare delle carte con un dorso diverso, ma solo per far giocare questi di old school, le ristampa, non sono legali, beh, c'era un prodotto, quando ero proprio piccolo, che erano i mazzi dei campioni, col dorso nero, esatto, e poi quello con il... e il dorso anche dorato, madò, io lì mi son fregato tutti gli scambi, con il mio cugino grande, che mi ha scambiato, 7-7 bordo dorato, io avevo dato, che ne so, Fetchland, cose varie, ma questa storia passata, tra... sono storie di tutti, tra la storia, è bello che tu racconti, perché appartengono, è bello per voi, non per me, comunque, vediamo i prodotti, che stanno per uscire, proprio a ridosso... siamo a ridosso dell'uscita di, ad esempio, Unsunctioned, un nuovo set, Unset, che uscirà il 29 febbraio, set su cui non c'è stato un grande marketing dietro, hanno fatto uscire le terre full art, fighissime, come tutti gli Unsunctioned, ma non è stato così spinto, come set. Che uscirà, ma in verità è uscito. Hai ragione, ho visto oggi la foto. No, 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 29, ho visto oggi la foto del mio negozio, che li ha presi. Appunto, oggi è domenica. Scusa, oh sì, scusami Akira, non stiamo pre-registrando. Assolutamente. Ops. Detto questo, Unsunctioned, che hai citato, appunto, un altro di questi formati, un, che di solito, ci mettevano un sacco di tempo a uscire. Sì, sì, sì. Invece, l'anno scorso è uscito Unstable. Sbaglio. Oddio. Forse era 2000. Devo fare un controllo, forse. Fai un rapido check, tu? Scoccherie. Sì, nel 2017, due anni fa. E adesso esce, tra l'altro, nel 2017, 12 però, quindi se vogliamo, proprio due anni, non so, però vabbè. E adesso riesce, quindi anche questi set qui, in un modo o nell'altro, piacciono. Ora poi, tu hai parlato delle terre full art, tu ti sei accorto di quanto stanno le terre full art foil di quei set, vero? Sì, però io ti dico un'altra cosa. A prescindere da quanto stanno le foil, stanno uscendo talmente tante terre full art, che l'effetto premium della terra full art, sta un po' svanendo. Cioè, l'idea, io ad esempio ho ancora le terre del primo An-7, che avevo da bambino, An-Igned, grazie, non mi veniva il nome, e che ce l'ho, ci giocavo da bambino, e l'ho sempre tenute con grande cura, no? Ma adesso sono uscite le terre full art di Zendikar, di Teros, degli An-7, queste nuove terre degli An-7 sono super tamarre, tra l'altro solo hanno un, come si dice, ricordano quella An-Igned. Sì, ma hanno un border strano. Esatto, comunque, assolutamente d'accordo con te su questa cosa, si sta un po' perdendo, questi erano effettivamente dei regali, che ci faceva Wizard, tu andavi a tornei, vedevi la gente, giocava con delle terre strane, dici, che figlia, non di che è quella terra, e la ricercavi, però, quindi, uscito questo set, che è il, dovrebbe essere il, come si dice, il... Sono tante ristampe degli An-7 passati. il riassunto di tutti gli An-7 passati, con le terre però diverse, quindi diciamo che, questo, se vuoi, è un set nuovo, ma solo di ristampe, conta sempre con il prodotto, però, ehi, non è, non fa proprio parte di quelle novità, che stiamo ricercando magari all'interno di questa digressione, però, invece, a breve, raccontami proprio che cosa uscirà, perché questo è un set, che è stato, il 20 febbraio è uscita la notizia, quindi noi siamo, in risposta a scombo è sulla notizia, vuole essere solo notizia, anzi, segnalateci sempre, se ci sono cose di cui dobbiamo parlare, che noi lo faremo, e per quanto riguarda appunto la notizia, è uscito questo Jump Start, però ti chiedo, ancora due minuti per parlare di altri prodotti, che stanno uscendo a manetta, prima di passare a Jump Start, che sarà tema, perché escono il 3 aprile i Challenger Deck, che secondo me sono un prodotto eccezionale, eccezionale, e anzi, in particolare, eh ma non hai visto il mio video, molto male Akira, molto male, molto male, vado subito recuperato, vai a vederlo ora, ok, no, però sono secondo me i migliori Challenger Deck, usciti, perché hanno anche tante Staple Pioneer, cioè non solo Standard, ma anche Pioneer, abbasseranno il prezzo di parecchie Staple, poi uscirà Ikoria il 24 aprile, insieme ad Ikoria usciranno i Deck Commander, proprio stesso giorno, nel mentre, poi continueranno a uscire Secret Layer, ci saranno ancora prodotti per Commander, nel corso dell'anno, e infine arriviamo al tema numero due, cioè Jump Start, che faccio un'altra premessa, abbiamo detto, i Deck Commander escono insieme a Ikoria, Jump Start esce insieme a Corset 21, 21, sì, Corset, ah ok, stesso giorno, Jump Start quindi manca ancora tanto, io pensavo invece fosse un po' più imminente, perfetto, e qua ti dico ancora una cosa di un altro prodotto, che sono i Mystery Booster, che sono quel prodotto con tutte carte a caso, che fanno un po' il Chaos Draft in un'unica busta, e questa cosa è un po' strana, cioè non è ancora uscito il Mystery Booster, ma è già passato di moda, perché l'avevano annunciato un sacco di mesi fa, questi annunci così anticipati, a ridosso di altri prodotti, forse sono la mia critica, cioè il Mystery Booster, adesso è un po' passato, come dire, di moda, l'hai giocato magari ai GP slash Magic Fest, ma in negozio non è ancora arrivato, e questo è da dire, va, io lo dico. Allora, quindi, tema nel tema, quindi Challenger decks, assolutamente sono, adesso mi sono ricordato cosa sono, sono quei deck, che poi Wizard l'ha sempre fatti nella storia, però questi sono nettamente meglio, perché hanno tanti 4x, tanti 4x playset, secondo me, già solo per questo vincono su tutti gli altri anni. La lista infatti la potete trovare sul sito ufficiale, e sono prodotti che appunto, insomma, aiutano effettivamente chi compra carte di Magic, perché, io ho avuto un ride, questi, questi, scorsa puntata ce l'ho avuto io, adesso tocca a te, che si potranno gostare solo su YouTube, è il bello della diretta, comunque, i Challenger deck, secondo me è un prodotto eccezionale, dicevo, i Challenger deck approvatissimi, io approvo anche Jumpstart, secondo me Jumpstart è una figata, brevemente cos'è Jumpstart, è un prodotto che è a metà fra Sealed e Limited, prende un po' il modello di Keyforge, non so se conosci, che è stato un po' un mezzo fallimento, diciamocelo, comunque sono dei pack da 20 carte, che tu prendi, ne prendi due, li unisci, gli metti le sleeves e giochi. Ogni pacchetto ha dei temi, ad esempio possono essere temi tribali, come Goblin, Cani, piuttosto che temi, dicevano Garruk o Pyrexia, quindi di tutto, con liste prestabilite, ci sono fino a 121 liste di carte prestabilite, che puoi trovare nei pacchetti, ed è sempre un'esperienza nuova, perché essendo che ogni pacchetto è casuale, quello che ci trovi dentro, assembli i mazzi composti da due anime, sempre differenti. Sì, allora un prodotto secondo me molto carino, che si rifà a un altro tipo di partita di Magic, che si fa in community, che spero che tutti abbiano giocato, cioè il Minimaster. Esatto, che prima ha confuso. Che cos'è il Minimaster? Il Minimaster è prendere un pacchetto di un'espansione io, un pacchetto di un'espansione tu, aggiungerci tre terre di ogni colore, e mischiare, e poi senza vedere la rara, anzi senza vedere niente. Senza vedere niente. Senza, ma soprattutto la rara, perché solitamente si gioca che, se io vinco, poi mi prendo la tua rara. No, io non l'ho mai giocata così aggressiva. Solo per il gusto di, vabbè, sai quando, in verità... Sei competitivo anche su Minimaster, Akira, ma cosa dobbiamo fare? Non mi fare, non mi fate queste immagini, no, assolutamente, è che magari li compravamo insieme, no? Certo, certo. E quindi li decidevamo, vabbè. Comunque detto questo, tu poi giochi solo con le carte che ci sono nel pacchetto, chiaramente con cinque colori, che potrebbe tranquillamente succedere, peschi terre di un colore e carte di un altro, vabbè, Amen, tanto succede anche al tuo avversario. In questo caso è Minimaster al cubo, al quadrato. Il cubo è meglio strutturato. Esatto, perché è proprio fatto con un tema, cioè le carte all'interno dei pacchetti di jumpstart, come hai detto tu, saranno o di un tema tribale, o di un tema appunto di un planeswalker, e quando li mischi uno con l'altro, diventeranno, e questo effettivamente fa molto, diciamo, il vezzo a Keyforge, anche se... Più o meno, perché pur sempre è Magic. Perché quello è proprio un altro gioco, perché è questa voglia di avere un sealed deck già pronto, ma sempre diverso l'uno dall'altro, vabbè. Che però togli il bello del sealed e del draft. Ma infatti chi l'ha giocato sa molto i limiti, è bellissimo le due partite, e poi, insomma, comincia un po' a scricchiolare, perché ci sono chiaramente dei deck sempre più forti, perché ci sono... Perché devi acquistare a manetta. No, non puoi, ogni deck quando tu lo apri è a casa. Eh ma tu poi devi, almeno, adesso poi chiudiamo Keyforge, mi ricordo che a un certo punto acquistavi deck a manetta finché non ne trovavi uno che effettivamente aveva delle carte competitive. Sì, e poi ti presentavi al torneo con quello, però, cioè, ripeto, va bene, chiuso l'argomento. Quindi, come hai detto tu, metti che hai in uno dei jumpstart ci sono i Goblin, nell'altro, come tema, hai Garruk, ti verrà un mazzo mischiato che è Garruk che guida i Goblin. Così. Molto, molto carino. Tra l'altro i pacchetti ti sono da 20 carte. Quindi c'è anche la... Con le terre. Sì. Non c'è la notizia ufficiale ad oggi, ma l'idea è che nelle 20 ci sono anche 8 terre, 8-9 terre. E quindi, perché poi tu trovi lì una terra base a tema, cioè trovi la montagna a tema Goblin. Ah ok, pensa. Cosa che tra l'altro, mischi. Importantissimo per tutti quelli che giocano competitive assolutamente i pacchetti di jumpstart non conterranno carte che saranno legali né in standard, né in pioneer, né in modern. Ok? Ma tutte le carte dei pacchetti di jumpstart saranno legali in legacy, vintage e commander. Dimentichi, historic. E qua ci ricolleghiamo alla notizia bomba, cioè che jumpstart sarà disponibile su Magic Arena. Cosa che mi riempie di gaudio, perché secondo me è perfetto per Magic Arena, mette carte in historic che ha l'ambizione di diventare il legacy di Magic Arena quando ci sarà poi anche Pioneer ed è figo perché quello che io critico alla Wizard ed è il tema 3 che non sono un problema i troppi prodotti. Il problema è questo non voler creare una connessione fra cartaceo e Magic Arena. Jumpstart finalmente lo fa, cioè io provo jumpstart su Magic Arena che sarà probabilmente per tempo limitato e dico che figo voglio rigiocarci vado in negozio e lo gioco con gente nuova e scopro il cartaceo. Bello, questo è un argomento chiaramente che richiederebbe un'intera puntata e che noi dedichiamo negli ultimi 10 minuti perché in risposta a scombo è così, abituatevi, noi siamo degli host molto sgarbati diciamoci la verità però è interessante perché come hai detto tu c'è veramente uno scollamento sembra che Arena sia una roba e Magic Cartaceo un'altra per i formati Io non ti nascondo che quando hanno annunciato Pioneer mi è salita una depressione assurda perché Pioneer per come è studiato era studiato per non arrivare mai su Magic Arena era troppo indietro nel tempo quando io confidavo la mia idea è questa io voglio giocare a Magic Arena anche per allenarmi e andare a fare i tornei in cartaceo ma Standard non mi è mai piaciuto così tanto quindi io speravo tanto in un formato Eternal dove dire prendo l'aspetto più competitivo uscito Pioneer ho detto no cosa ho fatto della mia vita dovevo fare video su Pokémon online poi si sono ripresi va benissimo le video su YouTube quindi se vuoi puoi tranquillamente sarebbe troppo bambinesco te no detto questo è invece interessante come questo prodotto che proprio non c'entra niente con Arena arriverà su Arena e farà sicuramente a scambio di giocatori chi dà il cartaceo andrà a giocare su Arena e chi dà l'Arena sul cartaceo Pioneer arriverà a su Arena quindi sicuramente i piani di Wizard sono assolutamente cambiati per quanto riguarda Arena non è più come volevano la piattaforma con cui far vedere il gioco in Standard esatto questa cosa mi manda fuori mi manda fuori mi manda fuori perché loro fino a febbraio inizio febbraio dicevano no Magic Arena è solo standard nonostante i feedback dei giocatori nonostante il fatto che c'era sempre meno visibilità su Magic Arena perché scendevano ad esempio le views su Twitch le views su YouTube con febbraio hanno detto va bene accettiamo che volete giocare altri formati e portiamo Pioneer diamo una prospettiva giusto così perché Magic non è un formato Magic prende tante tipologie di giocatori verissimo verissimo tra l'altro la cosa interessante proprio su questo è Historic cioè Historic è proprio incredibile perché Historic c'è solo su Arena ma perché non posso giocare Historic Real eh perché invece io qua sono a favore di un set solo digitale se gestito bene perché perché aspetta perché ti da ti scolla da tutti i problemi dei set cartacei dalla banlist cioè tu con Historic puoi dire io ci metto il Dark Ritual dentro a caso vedo che rompe il formato diciamoci la verità è che tu vuoi farci anche le carte tipo quelle di Hearthstone che prendono una carta a caso che esiste di la verità sì dai mi ricordo come si chiama l'abilità di quelle carte no explore forse sì esplorare no no esplorare magic oddio adesso non mi ricordo comunque la cosa figa è che ti scolli dalla banlist ti scolli da tutti i limiti del cartaceo cioè tu puoi inserire e togliere carte come vuoi cioè ti trovi Goblin quella che a caso una puntata Royal Rumble in cui io ti dico perché queste cose non mi piacciono e poi metti Pioneer perché sennò non ha senso historic rispetto a Pioneer perché perché dovrei giocare a historic invece che Pioneer beh perché è un altro formato con altre minacce con altre risposte con altre bellezze in cui magari non ci sono i combo che non mi piacciono e così via no io giocherai sempre Pioneer pool di carte più ampio più supportato ma in generale questa è una cosa che dicevo l'altro giorno in negozio al giocatore di Magic piace giocare con le carte potenti questo è vero mi piace giocare Tarmogoyf perché a 2 faccio un 5-6 e tu dico wow wow hai fatto un 5-6 a 2 sì ragazzi mi piace giocare Liliana del Velo e ai giocatori di Pioneer piace giocare Liliana la Stop perché sono carte potenti quindi è chiaro che in standard ci sono meno carte potenti che in Pioneer che ci sono meno che in mode che ci sono meno e bla 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 quindi da questo punto ci siamo sì ci siamo un po' distaccati dal tema tornerei comunque interessantissimo la discussione su Historic dove a me piace tanto ma io sinceramente io mi diverto a giocare Historic perché prendo i deck che vorrei giocare in Pioneer e li metto su Arena li rielaboro ok cioè per me purtroppo è la brutta copia di Pioneer e non vedi l'ora che esca Pioneer su Arena ma arriverà e speriamo che a questo punto Wizard ci faccia il favore e arrivi anche Modern perché no beh arrivi tutto che Arena sia il modo digitale di giocare come hai detto tu a Magic che non è un solo gioco ma è un non so neanche come definirlo perché Magic è un mondo è un mondo con tantissime filosofie puoi fare quello che vuoi ed è bello che ognuno lo giochi come gli pare se un client digitale ti permettesse questo sarebbe veramente ottimo poi non so come faranno a gestire determinate combo ma vabbè vedremo perché quello ho fiducia comunque tornando sulla questione Arena prodotti disponibili su Arena non abbiamo parlato dei Secret Layer che è un prodotto quello che praticamente ha tempo sono dei prodotti che vendono solo sul sito di Asbro distribuiti in tutto il mondo ma se tu li acquisti devi pagarci la dogana e fondamentalmente è Wizard che inizia a vendere le singole collegato ad Arena perché quando tu compravi un Secret Layer specifico ad esempio quello dei gatti su Arena ricevevi una sleeve criticatissima perché poi queste sleeve adesso sono disponibili sul negozio di Arena acquistabili quindi non c'era neanche più la fattore premium cioè tra l'altro a livello di carte sono contengono anche dei disegni diversi esatto forme alternative ed è un fenomeno interessantissimo perché se domani wizard dice ho bisogno di soldi fa il Secret Layer Fetchland pensa Scalding Tarn io ti faccio una domanda tu una Scalding Tarn questo prodotto uno ti interesserebbe per le fetch due quanto saresti disponibile a pagarlo allora usiamo Scalding Tarn come punto di riferimento mi interesserebbe sì sarei disponibile a pagarlo ovviamente meno di quanto la potrei comprare da un venditore come singola però questo prodotto introduce un problema non da poco che è la fiducia che poi i rivenditori di Magic in tutto il mondo hanno verso Wizard of the Coast esatto perché a quel punto come hai detto bene tu se si mettono loro a stampare le singole e a vendere le singole tanto ma veramente tanta fatturato marginalità di tutti i venditori che ci sono nel mondo che tengono in pieno questo gioco perché bisogna dirlo sono loro sono parte del veramente del divertimento c'è gente che ci campa a vendere carte di Magic che non sono magari venditori ma l'unica cosa che fanno è scambiare guarda che ci sono molte più persone che ci campano vendendo carte cioè giocando sulla finanza di Magic piuttosto che pro player certo assolutamente sono completamente d'accordo con te e credo questo da questo punto di vista appunto è un un grosso rischio per Wizard e qua andiamo su un punto cioè perché non distribuire questo prodotto ai negozi perché non supportare il negozio io sono a favore di prodotti come Mystery Booster Jumpstart i Yanset dove portano l'esperienza in negozio dove è il negozio che vende e fa girare l'economia solo dal sito e questo è interessante non lo penso sia negativo ma non voglio dire cioè non voglio espormi troppo perché dipende dai punti di vista nel senso che magari poi io non acquisto proprio una singola al momento non è che ristampano carte così costose no cioè sto vedendo il secret layer dell'international women's day no carte commander bella iniziativa tra l'altro 25 dollari cioè Wizard ogni prodotto che compri che costa 50 dollari 25 li da in beneficenza in beneficenza quindi questo è un po' un motivo magari per cui loro possono permettersi di dire è per questo che li trovi solo sul sito no devo dire che questo effettivamente non piace neanche a me in generale è un prodotto cartaceo lo voglio comprare anche in negozio però devo dire che è un prodotto veramente strano di nicchia una qualità proprio super premium esatto super premium di carte manco staple cioè di carte che praticamente solo in commander tu le vuoi vedere giocare sì per carità cioè ad esempio c'era il goblin lacquè con arte alternativa è uscito quello dei goblin che io sinceramente stavo quasi pensando di comprarlo ma lo compri sono mi pare 20-30 euro più totta la dogana e dico ma chi me lo fa fare ma certo bisogna bisogna vedere come evolve questo bisogna vedere come evolve però quando io penso a un prodotto wizard a me i prodotti cartacei piace acquistarli in negozio perché l'esperienza io qui io invito sempre a dire non acquistate da mkm e ebay andate dal negozio lo pagate ma 3 euro in più 5 euro in più ma cosa significa intanto dico ma neanche è vero di solito perché quando vai in negozio chiedi sempre quanto lo fai ai minimi di mkm il negoziante deve per forza tirar fuori i minimi perché sennò tu non glielo compri esatto vabbè comunque dicevi scusate secondo me è importante supportare la scena del cartaceo partendo da chi si fa lo sbattone di organizzare tornei insegnare nuovi giocatori cioè questo è un aspetto importantissimo e i secret layer non sono totalmente a sfavore perché come dicevi tu sono dei prodotti non premium di più esatto veramente la crema della crema del premium e ci sta prende un target specifico ci stanno preferisco prodotti come jumpstart che in più mi supportano arena certo certo e l'altra aspetta aspetta lo so che tu mi vuoi zittire perché sto guardando questi secret layer perché effettivamente sono bellissimi bellissimi l'anno del ratto con tutti i rati stupende no ma anche sto pensando di comprarmi il prossimo devo dire allora quando uscirà il dinosauro quando uscirà il dinosauro lo compro bene quello dei dinosauri lo compro sicuro dicevo su anche il tema di più supporto a magic arena c'è più sinergia cartaceo magic arena una cosa che mi piacerebbe vedere in futuro è nei challenger deck mettetemi il codice per avere le stesse carte su arena pensa che bomba pensa quanti giocatori porti su arena pensa quanti giocatori dicono ma sai che c'è il mazzo che gioco io mono red ma io mi compro il challenger deck e vado a fare i torneo con gli amici simic flash più sinergia più sinergia questo e tra l'altro loro l'avevano testata all'inizio perché quando uscì dalla beta arena mi pare in australia avevano messo dei codici che ti davano tipo l'elfo di lano war art foil dentro i pacchetti avevano fatto un market test coi codici dentro i pacchetti e prima parlavamo di pokemon online pokemon online mette un codice in ogni pacchetto io non dico di arrivare a questa cosa ma sarebbe la proiezione perfetta guarda che dirti mi piace questa tua inclusività perché è veramente molto bella perché va contro in verità quello che senti spesso in negozio cioè l'arena player non sa giocare assolutamente sempre lo vedo sempre lo vedo ma è cartaceo invece proprio è bello che ripeto il bello di magic l'abbiamo detto tutta una puntata non è il gioco ma è the gathering esatto beh la dunanza di tutti questi giocatori di tutte queste persone che hanno questa passione e insieme la coltivano e ti direi che con una frase del genere dobbiamo chiudere abbiamo pure sforato i nostri 30 minuti a Chirone siamo a 40 ormai tutti i commenti tra l'altro vi ringrazio anch'io sono andato uno per uno cuoricinandoli uno per uno siamo davvero almeno io sono davvero come si dice overwhelmed dal vostro affetto e dall'affetto che avete riservato a questa nuova idea a questo format grazie 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 non vi preoccupate continueremo siamo qui per restare risposta scombo non è una roba che nasce oggi e finisce domani no assolutamente e vi ringraziamo per i feedback tra l'altro non so dove state ascoltando in questo momento il podcast ma è disponibile su spotify apple podcast tutto ciò che è associato a apple podcast quindi itunes itunes ma anche altri podcast strani che forse in italia non esistono neanche su youtube e a breve dovrebbe arrivare anche su google comunque lo annuncieremo e su tutto questo ci tengo ringrazio lo zio garbi perché sta facendo tutto ma ci mancherebbe ci mancherebbe proprio c'è si è messo lì ha imparato tutto in un attimo ed ecco qua che appunto è risposta scombo manca chiaramente radio 1 radio 2 ma ci arriviamo ci arriviamo passiamo dal podcast più amato sulle magiche al podcast unico in italia in radio addirittura va bene direi che siamo arrivati alla fine noi ci risentiamo domenica prossima ciao akira è stato un piacere come l'altra puntata ciao ciao non so chiudere i podcast abbiamo visto allora chiudo io ancora grazie per aver ascoltato grazie per il vostro tempo e per la preferenza accordateci ci vediamo domenica prossima con una nuova puntata vi ricordiamo che comunque risposta scombo vuole assolutamente presentarvi un sacco di puntate speciali quindi a breve faremo partire un sondaggio su quale sarà la prima le migliori 5 carte verdi della storia i migliori troppo a 2 di legacy bla 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 non vi preoccupate siamo qui per voi professionista della chiusura ciao a tutti